CGL, CISL, Will e SNALS hanno proclamato lo sciopero nazionale generale della scuola per venerdì 20 maggio a causa del mancato rinnovo del contratto da 7 anni. Nella sede della CISL Scuola Puglia Basilicata i segretari regionali della FLCCGL, della CISL Scuola, della Will Scuola e della SNALS hanno illustrato i dettagli e le motivazioni. Noi vogliamo il contratto nuovo, l'ultimo contratto è stato siglato nel gennaio del 2009 e ora ci propongono solo 7 euro di aumento lordo al mese, è veramente indecoroso, vogliamo che esca fuori tutto il lavoro sommerso perché nella scuola si lavora per troppo tempo e quello che era scritto nel vecchio contratto non è più attuabile. Il mondo della scuola torna in piazza per continuare una protesta che è iniziata ormai più di un anno fa, non intendiamo assolutamente fermarci, ci sono questioni che in queste ore stanno venendo fuori prepotentemente, dal bonus premiale che non condividiamo, di cui chiediamo il ritiro perché produce effetti divisivi nella scuola mentre noi sosteniamo un'idea inclusiva della scuola, per non parlare poi della chiamata diretta che dovremo nella sequenza contrattuale tornare ad affrontare ma sappiamo già che il governo su questo non intende assolutamente ascoltare le ragioni del sindacato. Le scuole sono lo sbando, una nave per poter andare avanti ha bisogno di tutti, quindi il personale ATA con la 107 è stato bloccato nelle assunzioni e il turnover non esiste e fra le altre cose abbiamo le scuole senza personale, uffici che sono completamente svuotati perché c'è stato il taglio degli organici, abbiamo padiglioni scoperti perché non c'è vigilanza di ausiliari con il personale ATA, abbiamo tecnici e noi chiediamo e rivendichiamo assolutamente che anche i tecnici vengano assunti negli istituti comprensivi perché non si può chiedere una scuola laboratoriale quando non ci sono i mezzi per poterli fare andare avanti. Queste scelte del governo che non puntano a salvaguardare la qualità della scuola, infatti anche i dirigenti scolastici sono sul piede di guerra, oggi a Bari è in corso un'assemblea sindacale di dirigenti scolastici regionale e ai dirigenti sono stati tolti in questi ultimi anni circa 400 euro al mese mediamente e quindi sono state tradite le aspettative da questa famosa legge sulla buona scuola. Protestiamo anche per i precari che sono rimasti fuori dalle assunzioni e soprattutto anche per la scuola dell'infanzia che non ha avuto l'organico del potenziamento. A partire dalle ore 9.30 di venerdì mattina da Piazza San Ferdinando via Sparano si muoverà il corteo unitario lungo le strade del centro cittadino. Alle 11.30 invece il comizio finale. La Corte Costituzionale e il Tribunale di Roma hanno sentenziato l'illegittimità di ulteriori rinvii. Inoltre il 5 aprile scorso è stato sottoscritto l'accordo quadro che definisce le nuove aree contrattuali della pubblica amministrazione.